a tutti roberto con il channel sempre qua sempre in sede aziendale sempre col brand elettro discount guarda qua guarda qua e non è l'adesivo è guarda qua ford focus 2016 st non st line st che spettacolo ragazzi guardate che bella anche nella colazione molto rara complimenti al cliente complimenti veramente perché veramente stupenda è talmente stupenda che l'abbiamo resa ancora più stupenda cosa abbiamo fatto i più attenti puristi ford lenticolare su for focus ma strano è vero perché questa bellissima macchina che è ovviamente un st è top di gamma ha il primo impianto casa madre quindi impianto allo xeno o m e quindi quindi chi se ne frega e cosa hai fatto kit avatar abbiamo fatto la conversione dell'oxeno originale in d3s che vi faccio vedere eccolo qua kit avatar già presentato vediamo se ce la faccio eccolo qua d3s d3s la riconoscete anche perché a parte la scritta ha lo scatolotto che sarebbe l'accenditore bene quindi cosa abbiamo fatto in sé perché comunque l'impianto originale xeno casa madre ovviamente già di grandissima qualità col kit avatar non abbiamo nient'altro che allungato la qualità della vita del prodotto perché perché essendo un led il led non ha non si esaurisce come gas mentre gas la percentuale di gas nel corso del tempo dell'utilizzo va a mancare quindi abbiamo sempre il cento per cento quasi cento per cento di potenza sempre 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 grazie alla circuitazione led poi anche la colorazione del led è molto più bellina molto più bianca quindi abbiamo sposato un tutt'uno durata qualità e ovviamente anche tecnologia kit avatar ricordiamo che plugin quindi non abbiamo modificato niente un domani cliente può ripressionare in d3s l'unica modifica è stata fatta al tappo richiesta del cliente per sempre i soliti tessuti voilà eccoli qua sempre richiesta del cliente dissipazione attiva molto molto importante bene andiamo a vedere anche altre informazioni per quanto riguarda la freneria anteriore abbiamo fatto anche la luce di svolta che ve la faccio vedere con il kit h1 e i suoi supporti eccolo qua uno e due ovviamente è stato utilizzato per miniaturizzare il kit sirio poi per concludere diciamo dai ma non abbiamo ancora concluso luce pozzangara t10 e poi abbiamo fatto anche la cromo della freccia che era anche un po bruttina vedere questo punto arancione che sporgeva non era bellissimo abbiamo usato la cromo quindi quando fa luce diventa cromato quando tu accendi la freccia diventa arancione preciso bene mi sembra di non aver dimenticato niente ragazzi è veramente bella stare qua ore e ore a guardarla solo guardarla veramente bello sto colore in stile lamborghini mi piace veramente molto bello bene come sempre brand elettorizzano bel like su facebook seguite sempre la pagina roberta godiri channel ne manca uno ma dopo ve lo dico youtube sempre numero uno il canale numero uno instagram le mie stories e ovviamente l'ultimo nato pagina facebook sempre rgc ciao ragazzi